buongiorno a tutti ragazzi salve a tutti e buona domenica avrei voluto parlare stamattina di una grande partita fiorentina inter ma purtroppo devo e voglio parlare dell'insufficienza di valeri lo so ne hanno parlato tutti è stato già detto tanto è troppo ma secondo me non è mai troppo un'incompetenza così non la voglio più vedere non si può più vedere in serie a io da padrone di società di serie a quale non sono ma se fossi il presidente di qualche squadra che sta all'80 ai vertici avrei chiuso il campionato ieri sera perché non è possibile è la stessa cosa l'anno scorso è successa la stessa cosa in venezia inter per esempio o inter venezia non ricordo se era in casa dell'inter in casa del venezia comunque due gol di zeko da annullare tutte e due io li ricordo tutti quanti mi segno tutte le irregolarità di un campionato perché 2017 18 l'anno che il napoli ha fatto 94 punti 91 94 91 mi sembra la juve 94 abbiamo perso lo scudetto per tre punti dopo tutte le polemiche l'espulsione di pianici il napoli ha perso lo scudetto nell'albergo a firenze e perché voi le partite quando le partite devono essere decisive le perdete sempre agliù gli scudetti e i campionati si indirizzano in un certo modo tutto l'anno senza che andiamo a vedere poi errori arbitrali fatti alla trentesima giornata all'ultima giornata è stato un errore arbitrale che poi ha assegnato lo scudetto no sono partite come quelle di ieri sera che rovinano i campionati comunque partiamo un attimo dall'inizio prima di cominciare voglio come sempre invitare ad iscrivervi al canale se vi fa piacere attivate la campanella così restate aggiornati quando carico qualche contenuto detto ciò la partita fiorentina inter è stata una bella partita da vedere fino a che non veniva intaccata dal dal protagonismo di valeri allora caro valeri sei arrivato addirittura alle iene hai fatto una figura di merda davanti a tutta italia anche in europa io vivo in olanda sei uscito anche sui giornali olandesi quindi come celebrità sei ben quotata celebrità per tutte le stronzate arbitrali che fai ogni volta che abiti perdi sempre il bandolo della matassa in partite importanti e non riesci a gestire 22 giocatori che sono forti riesci solo a gestire al limite vai a arbitrare la serie d la serie c vai arbitrare quelle partite lì dove un errore del genere ti può costare anche la vita se entrano i tifosi negli spogliatori ti fanno un mazzo così carissimo valeri non si possono vedere più queste cose comunque secondo me l'errore principale ovviamente è l'espulsione di di marco tu dai il rigore per l'inter vai a rivedere il fallo al var la vedi che quella è una entrata pericolosissima dai calcio di rigore non lo ammonisci nemmeno cioè quelle calcio di rigore rosso se tu hai assegnato il fallo in quella circostanza lo devi cacciare fuori non esiste o lo cacci fuori o almeno lo ammonisci tu niente niente perché poi al limite te ne esci che no quello è stato considerato non un fallo pericoloso perché buonaventura aveva già calciato ma che significa allora io entri in area di rigore mi si allontana il pallone tu mi tronchi la ginocchia no vabbè ma quello il pallone era lontano che significa che era lontano questo è gioco pericoloso è rossa e basta è sul 2 a 1 la partita con l'inter in 10 sarebbe stata totalmente diversa totalmente diversa non non esiste tu hai indirizzato la partita in una in una maniera che poi diventa difficile gestire ovviamente tu hai già intaccato la partita con quell'episodio poi vogliamo metterci il il calcio di rigore dato all'inter che non voglio non voglio commentare il rigore rigore ma per me terracciano non lo tocca ci sta da dire che da quando è intervenuto il var gli attaccanti comunque in area di rigore cercano il contatto perché comunque andando a vederlo a velocità a velocità rallentata trovi il contatto del calcio di rigore e pur se lieve te lo prendi e basta comunque il calcio di rigore non è l'errore più eclatante forse non è nemmeno un errore l'errore però sta nel 4 a 3 il 4 a 3 era da annullare cioè fallo di zeko prima del prima del 4 a 3 finale dell'inter allora il var prima era acceso quando dovevi dare il calcio di rigore alla fiorentina valla a rivedere non valla a rivedere e invece ma al su 4 a 3 si è spendo tutto mariani che era al var è andato a casa prima all'ottantesimo l'avete mandato a casa mi volete dire perché cioè non c'è coerenza uno non c'è coerenza due c'è tantissima incompetenza e tre valeri per tutto quello che è successo il 2018 con con inter juve e tutte le intercettazioni che sono state fatte se è arrivato sulle iene la sappiamo benissimo la pratica e sappiamo benissimo tutto ciò che è successo e com'è andata ancora sta in arbitraria punto primo punto secondo ma uno meglio di valeri da mandarlo ad arbitrare fiorentina inter ieri non c'era cioè se siamo così rovinati chiamate tutti gli abiti delle serie minori serie c serie d arbitri che stanno in eccellenza a farsi un mazzo così senza raccomandazioni non arrivano agli alti livelli perché lo sappiamo benissimo come funziona scalare la classifica arbitrata in italia e invece deve arbitrare valeri che vuole fare il fenomeno però non ci capisce un cazzo scusatemi la questa brutta parola però ragazzi io ho la pazienza e la calma di un mondo intero posso tranquillamente resistere ed essere paziente per anni e anni però poi arrivo a un certo punto che guardi indietro e guardi tanti errori arbitrali guardi le tante partite che non voglio chiamare truccate questa è incompetenza arbitrale non è il fatto no tu ce l'hai con l'inter ce l'hai con la juve ce l'hai col milano ce l'hai con chi che sia no cioè per me queste sono partite da tu devi mandare un arbitro che tra i migliori e se in italia siamo così rovinati tra i migliori ci sta valerio orsato che comunque è in fase decadente cioè non ci sta più nessuno da potermi andare ad arbitrare ma veramente facciamo volevo parlare di fiorentina inter però valeri ha rubato tutta la scena se vogliamo dire vogliamo parlare un attimo della partita nel dettaglio l'inter il primo tempo è lautaro ma tutta la partita l'inter è lautaro dipendente un grandissimo assist per barella sul primo gol un grandissimo gol il 2 a 0 dobbiamo sottolineare il la magia di conee che ha messo la palla all'incrocio ha fatto un grandissimo gol per la fiorentina però ripeto non riesco più a focalizzarmi sul calcio giocato quando succedono queste cose scusatemi questo sfogo ragazzi ma questo era per fiorentina inter speriamo oggi di vedere almeno tra atalanta lazio napole la roma che giocano stasera almeno di vedere al di là dei risultati di vedere partite dove si gioca a calcio e dove non ci saranno fenomeni vestiti in giallo fluo che vengono là e vogliono fare i fenomeni tu per qualsiasi intervento dubbio devi andare al var ieri sul 4 a 3 al 95esimo stai decidendo una partita e stai regalando tre punti li dai una squadra li dai all'altra se c'è qualcosa di dubbio devi intervenire caro valeri ragazzi scusatemi lo sfogo ci vediamo in un prossimo video sperando di vedere due partite giocate a calcio due o tre partite di calcio giocato almeno oggi senza trovare un giallo fluo che passa e vuole fare il fenomeno ragazzi questo era quanto per fiorentina inter si voleva parlare di calcio giocato ma non è stato possibile perché non è possibile non riesco a sorvolare su queste cose perché a me il 2017 2018 l'anno di sarri con che ho detto prima con i 94 punti alla juve il 91 a napoli è rimasto qua non perché abbiamo perso lo scudetto perché durante l'anno ci sono state troppe cose che non tornano vogliamo elencare tra cagliari chievo juve chievo la juve con il cagliari juve inter sono tutte segnate su fogli e hard disk che mi custodisco con con tanto amore questo era quanto ragazzi ci vediamo nel prossimo video non dimenticatevi di iscrivervi al canale attivate la campanella ciao ciao